Allora parliamo di Renfield, allora il film esce il 25 maggio al cinema, è un film di cui bisogna sapere due cose, due o tre cose di diciamo dettagli importanti, vabbè a parte il fatto che dentro abbiamo due attori buoni, cioè buoni, uno è un grande attore, l'altro è un buon attore, insomma deve ancora un po' dimostrare, è giovane, che è Nicolas Holt, e l'altro è un grande attore, è Nicolas Cage, che purtroppo, non lo so, è uno di quei personaggi del cinema che c'è chi lo detesta e pensa che siamo... non capisco queste antipatie, tipo odio a Nicolas Cage, allora... sì ok, ma Nicolas Cage è un grandissimo attore, quindi ci sono comunque questi due attori che alzano notevolmente il livello della pellicola. Poi c'è da sapere che il regista è Chris McKay, e voi direte chi cazzo è Chris McKay? Chris McKay è il regista di Lego Batman, e anche qui direte, vabbè, Lego Batman, chi cazzo è? Lego Batman invece è un film estremamente divertente, io l'ho scoperto perché mio figlio piccolo lo guardava, e l'ho guardato con lui, anche diverse migliaia di volte purtroppo, ed è un film molto divertente, ma non solo, ha una comicità fighissima Lego Batman, ha dei tempi comici meravigliosi, è un film veramente che riesce a far ridere anche gli adulti, anzi forse di più gli adulti, e il regista è anche il montatore di Lego Movie, che io non ho visto, è un film incensato a destra manca da un sacco di gente, per come è scritto, per come è ben gestito. Quindi stiamo parlando di un regista che sta arrivando a fare una pellicola comica, questo sia chiaro, perché chi non l'ha capito è come minimo un terrapiattista, è una pellicola comica questa, non è un film da prendere seriamente, se no sei pazzo, e arriva con un background notevole a fare questa cosa qua. Non solo, a scrivere il film troviamo tre figure, Ava Tamer, che è quella che conosco meno, che capisco meno nel progetto, Ryan Ridley, che è uno sceneggiatore che arriva anche da appunto cose comiche come Rick e Morty, e infine Robert Kirkman, che è il creatore del fumetto The Walking Dead e anche di una bellissima serie animata che è Invincible, Invincible è sceneggiata da Ryan Ridley, quindi non stiamo parlando di Mel Brooks, ok? Però c'è un bel team di persone che sanno far ridere, che sanno fare questa cosa qua, sanno occuparsi di comicità all'interno di un film, ve lo voglio proprio sputare così, il film è divertente, il film fa ridere, fa ridere, fa ridere tante volte, tantissime volte per tutto il film, e in alcuni momenti proprio fa ridere, il film fa ridere, è un film scritto intelligentemente, che però ha i suoi difetti, fermi tutti, non iperesaltiamoci, però devo dire che il trailer estrae dei pezzi e lo fa sembrare puramente un film sciocco, in realtà c'è un bellissimo inizio, bellissimo inizio con Voice Over, dove addirittura vediamo una citazione, cerco di essere meno spoiler possibile, una citazione di Dracula del 1931 di Todd Browning con Bela Lugosi, ok? Vediamo una citazione meravigliosa, più di una citazione meravigliosa di questo film, da lì parte tutto, perché? Perché questa è la storia che Kirkman si è inventato per andare a dare vita a un personaggio come Renfield, che è l'assistente di Dracula, colui che lo cura, lo protegge quando è vulnerabile, quindi di giorno, lo aiuta eccetera, Renfield è il protagonista di questo film, ma anche Dracula è molto il protagonista di questo film, il protagonista di questo film è la relazione tra i due, che è descritta molto bene, che è il fulcro di tutto il divertimento. Ho adorato tantissimo il modo di recitare di Nicholas Holt, non so come si pronuncia, Holt, qualcuno me lo scopre, questo attore molto giovane inglese, che tra l'altro è presente in un film molto carino, anche se molto, anche molto frivolo e leggero, si chiama About a Boy, un film che io, è un mio piccolo guilty pleasure, About a Boy, e lui è il bambino di About a Boy, la recitazione bellissima, molto british, con dei piccoli richiami a la recitazione di Hugh Grant. Per me questo film perde tantissimo in italiano, quindi fatemi sapere voi se andrete a vederlo, se regge. Altro punto dove ho paura, dove veramente ho paura perché troviamo questo meraviglioso Dracula, un Dracula bellissimo, un Dracula che sembra veramente la versione di Bella Lugosi decadente, un po' anche rincoglionita, una versione di un Dracula quasi un po' vulnerabile, perché in questo film si è voluta creare una bella storia intorno proprio alla relazione tra i due personaggi, c'è una relazione e Dracula in qualche modo soffre perché Renfield vorrà fare delle cose, vorrà sfuggirli, e si vede che Dracula in qualche maniera è risentito da queste cose, nonostante Dracula sia un mostro, e lo ribadisce lui, ci sono tantissimi discorsi che vengono fatti all'interno dei dialoghi tra lui e Renfield che sono meravigliosi, sono veramente spassosissimi, sono, non lo so, veramente qualcosa di inaspettato, totalmente inaspettato. La recitazione di Nicolas Cage è bellissima, è qualcosa di travolgente, strassimpatico, ha diverse sfaccettature perché Dracula passerà da dei momenti in cui è ferito, debole, momenti in cui è aggressivo, momenti in cui è ironico, simpatico, per cui veramente è un personaggio sfaccettatissimo e la recitazione di Nicolas Cage è pazzesca, cioè per me ha dato tantissimo a sto film. Se non fosse, appunto, che ci sono questi momenti in cui sembra quasi prendersi sul serio e quindi perde un attimo la rotta, in cui cala un pochino l'attenzione, cala un pochino il divertimento, ma può anche starci, perché poi comunque è che puoi ridere costantemente, devi avere anche dei momenti in cui, di calma diciamo, se non fosse per veramente, per pochi difetti che ha questo film, lo considererei veramente un vero cult del cinema horror comedy degli ultimi anni. Lo considero veramente un ottimo film horror comedy, veramente spassoso, cioè è spassoso. Soprattutto è riuscito comunque in un finale un po' così che inizia un po' ad annoiare, a un certo punto a riprendersi e di tornare a essere demenziale in un modo totalmente imprevedibile e che funziona. Cioè alla fine finisci il film ridendo comunque, dicendo ok, a follia assoluta. Quindi comunque è un film divertente, è un film divertente per me. Tra l'altro all'interno del film è ricchissimo di scene action, molto belle, per chi ama un po' vedere un po' di scazzottate, peccato che qua le scazzottate sono super splatter. E io sono strafelice di vedere in un film mainstream braccia amputate, gente ammazzata presa da schiaffoni con le proprie braccia, strappate chiaramente. Perché? Perché Renfield chiaramente ha tanta esperienza sulle spalle perché viene da un'altra epoca e sono anni che fa il servitore per Dracula e soprattutto la sua mania di mangiare insetti che in realtà nel Dracula originale non gli procurava nessun potere, però lui era convinto in Dracula di acquisire forza da questi insetti e anche appunto nel Dracula quello con Tom Waits che faceva Renfield. in questo film lui quando mangia un insetto che tiene in una specie di scatolina per caramelle lui acquisisce una forza simile a quella dei vampiri e fa macelli ed è molto molto divertente comunque la parte super splatter, di un'idiozia assurda, di un'idiozia assurda. Io spero che venga tradotto bene perché comunque le battute spero che non si perdano perché sono spassose e che riescano comunque col doppiaggio a dare quell'intensità che c'è effettivamente nel film. Ovviamente tutto il, come dire, l'idea di base del film è che Renfield interpreta questo suo problema che ha come l'avere una relazione con una persona narcisista e quindi tutto è giocato sul fatto che lui è convinto di poter affrontare Dracula usando praticamente un manuale di quelli che si usano per liberarsi da una persona narcisista e questo è molto buffo e divertente. Kirkman con questa idea qua ha fatto una cosa molto bella secondo me per il cinema. non ha detto secondo me Dracula va fatto così, secondo me Dracula... ha semplicemente fatto quello che tutti dovremmo fare, ha sognato, ha sognato. Cosa sarebbe accaduto se Dracula non fosse, scusate lo spoiler, deceduto nel film e avesse continuato a vivere accompagnato dal suo fedele Renfield? Cosa sarebbe accaduto nella società moderna? Come si sarebbe voluta la cosa? Chiaramente in chiave comica. E lo trovo bellissimo e penso che se ne possano fare 3.000 versioni di questa cosa qua. Per cui per me è un'operazione riuscita, un film non eccezionale ma divertente, quindi lo consiglio. Belli costumi, c'è stata tutta la polemica se Nicolas Cage sembrava o non sembrava a Giucca Scasella. Io penso che sia un po' banale paragonarlo a Giucca Scasella, anzi provinciale, perché è un'affermazione che ha a che fare solo con la nostra cultura, una cultura di cui tranquillamente farei a meno. Non è che dici questa cosa e questa cosa è vera fuori dall'Italia, no, chiaramente no. Quindi in realtà lui ha dei vestiti molto pacchiani, ma anche molto eleganti a seconda dei punti di vista. E in effetti il vestito che fu liccato, cioè fotografato fuori da set, nel contesto lì si nota pochissimo. Perché c'è una luce che non lo fa sembrare rosso o acceso quanto è realmente nella realtà. Perché ovviamente i vestiti sono pensati per una determinata fotografia, quindi anche lì hanno toppato tutti quanti. Niente, il film è al cinema dal 25 maggio, se andate a vederlo fatemi sapere, taggatemi e basta. Questo è tutto.